buongiorno a tutti oggi siamo a castagnola per mostrarvi questo appartamento di due locali e mezzo ci troviamo al primo piano e siamo serviti da ascensore entriamo dentro l'appartamento e subito di fronte a noi troviamo un grande armadio a muro con la disposizione per appendere le nostre giacche l'appartamento si presenta immediatamente molto luminoso procedendo alla mia destra trovo il primo bagno è un bagno per gli ospiti un bagno completo di una grande specchiera lavabo e pc ci apriamo sul salotto un salotto di generosa dimensione che affaccia direttamente al terrazzo il pavimento è in parche abbiamo anche qua un caminetto in bio etanolo da questo appartamento possiamo godere di una bellissima vista sul lago di lugano i balconi verranno prossimamente ristrutturati e verranno sostituiti con dei balconi in vetro ora ci troviamo nella cucina una cucina spaziosa con tanto spazio organizzativo abbiamo tutti elettrodomestici nuovi della marca miele qui abbiamo un comodo microonde forno lavastoviglie lavabo piastre a induzione e per terminare una comoda cantinetta procediamo nella zona notte a disposizione del palazzo abbiamo anche una piscina condominiale ora ci troviamo nella camera matrimoniale una camera con già gli armadi a muri abbiamo anche un comodo climatizzatore già installato e ulteriori armadi a muro terminiamo con il bagno un bagno compreso già di postazione lavasciuga un doppio lavabo doppia specchiera un grandissimo box doccia toilette e bilet eventualmente a disposizione c'è anche una lavanderia condominiale a disposizione dell'appartamento abbiamo già un posteggio auto esterno se siete interessati a questo appartamento contattateci ti affitto